La CGL chiede chiarezza e programmazione in merito al diritto allo studio, questo dopo il giallo risolto a quanto pare, sull'agibilità della struttura dell'ex Campomizi, dopo che il direttore del Lazio Luca Valente avrebbe prospettato la chiusura a seguito della mancanza di un certificato di agibilità. I documenti però quelli necessari, la presidente Morgante, sollecitata anche da alcuni membri del CDA, li ha tirati fuori poi e quindi almeno la chiusura sarebbe scongiurata dopo che già si era paventata mesi fa a causa dei numeri esigui. Ma le acque non si calmano, anche se la Morgante stessa avrebbe detto di essere pronta a far partire il bando. Il sindacato chiede un incontro immediato, a quanto pare però per il direttore, come ha scritto in una nota lui stesso, non sarebbero servizi essenziali la residenzialità e la mensa, una faccenda ingarbugliata, mentre ad oggi l'ex Campomizi è l'unica residenza universitaria e nel 2022 scade la convenzione e ad oggi non c'è una struttura alternativa. Dobbiamo arrivare ad ottobre avendo la certezza che siano garantiti tutti i servizi agli studenti e che sia garantito il diritto allo studio e ad oggi questa certezza noi non ce l'abbiamo, ovvero la DSU più di una volta è stata un divaca rispetto alla certezza, la garanzia del rispetto di questi diritti e ad oggi noi vogliamo avere delle effettive certezze. C'era anche il rettore dell'Ateneo, Edoardo Alesse, con diversi consiglieri regionali e membri del CDA del Lazio. L'Ateneo è pronto a ripartire, ma tutti devono fare la loro parte. Noi non abbiamo grosse competenze per quello che riguarda il diritto allo studio, se non l'impegno importante di stimolare l'Azzo, che è l'ente regionale che ha delega per il diritto allo studio. Noi faremo tutto ciò che è necessario affinché siano garantite agli studenti tutte le prestazioni che sono necessarie per affrontare un anno accademico in serenità. Era presente anche una nutrita rappresentanza di studenti che hanno denunciato diverse carenze. Se un ragazzo o una ragazza vuole iscriversi all'Università dell'Aquila, deve avere almeno dei servizi garantiti. E poi c'è tutta la questione dei lavoratori che aspettano di capire quale sia il loro futuro. C'è ovviamente tutta quanta la questione della programmazione per quanto riguarda tutto il protocollo di intesa per la costruzione dei nuovi alloggi, che a quanto pare entro il 2022 doveva essere abbandonata la Campomizi, però ci siamo arrivati in pratica e ancora non si capisce niente.